Buongiorno a tutti, oggi la seduta del Consiglio regionale sarà completamente incentrata sul dibattito politico generato dal disegno di legge Calderoli sulla cosiddetta autonomia differenziata. Non mi soffermerò sul concetto di autonomia differenziata che sappiamo bene essere da sempre il tema propagandistico della Lega. Piuttosto è necessario sradicare il pregiudizio che il Nord regge il peso economico del Sud, come se il Nord producesse e il Sud assorbisse gran parte delle risorse. Non è così ed oggi in Consiglio spiegherò il perché con dati alla mano. Vedremo anche come si esprimeranno le varie forze politiche durante il dibattito e soprattutto quale sarà la posizione del Presidente Bardi.